Lascia che io sia No, è lui, ti giuro, è lui Il tuo privido più grande Non andare via Accorciamo le distanze Nelle lunghe attese tra di noi Io non ho confuso mai Allora, io non ho mai provato questa esperienza C'è sempre una prima volta per tutto Grazie! Wow! Vedete qui? Dalla strada al palco è uno show che io condurrò Dal 28 di giugno Su Rai 2 Quindi mi raccomando Io vi aspetto Il tuo privido Il tuo privido è uno show che io condurrò